Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, pagina politica in apertura del nostro telegiornale. Vi riferiamo della conferenza stampa che è stata tenuta oggi a gela dal gruppo dirigente del primo circolo del Partito Democratico. Non condiviso il contegno politico dei consiglieri comunali che rappresentano lo stesso Partito Democratico all'interno dell'assise civica. Vediamo. Chi non seguirà la linea politica stabilita dal Partito Democratico dovrà assumersene la responsabilità. Serve un segretario cittadino autorevole con il quale si stabilisca un indirizzo unitario. Cerchiamo condivisione. Non usa mezzi termini il gruppo dirigente del primo circolo del Partito Democratico di Gela che chiarisce di non condividere il contegno politico dei consiglieri comunali che rappresentano attualmente il Partito Democratico all'interno dell'assise civica. Noi intanto abbiamo una priorità. La priorità è quella di costruire il Partito Democratico. Il 20 dicembre ci sarà la fase congressuale. Noi abbiamo il dovere, così come già abbiamo rappresentato al presidente provinciale del partito, di fare uno sforzo, una candidatura unitaria. Oggi il PD non ha bisogno di un segretario di schieramento. Oggi c'è una città che deve essere interpretata da una politica, la politica del Partito Democratico, che si appresta alla fase congressuale, che i rappresentanti in consiglio comunale, con la guida del partito che si farà, dovranno pungolare e stimolare un'amministrazione comunale, per me in questo momento disattenta su molti temi della città, lo farà in maniera costruttiva, ovviamente, perché il sindaco e l'amministrazione comunale vanno aiutati in un percorso nell'interesse della città. E lo spirito del Partito Democratico è quello di aiutare con le proposte, con le idee, ma rimanendo nel ruolo che oggi la città ci ha dato come dimensione. Che è quello che le ultime elezioni ci ha detto. Il Movimento 5 Stelle andrà a governare, il Partito Democratico andrà all'opposizione. Un partito è fatto di regole. La nuova guida politica del PD servirà a far rappresentare nella città una proposta, un'idea di un governo alternativo al Movimento 5 Stelle. C'è anche un chiaro riferimento alla recente richiesta dei consiglieri Malluzza e Panebianco di entrare a far parte del PD, che non ha ricevuto riscontri positivi. Io, due consiglieri comunali giovani che hanno messo la faccia sul segno del sindaco Fasuro nell'area del centro-sinistra, quindi alleati col Partito Democratico, le avrei fatte entrare, anche perché noi abbiamo accolto nelle nostre liste del Partito Democratico gente che veniva da esperienze di altri partiti, di altre aree addirittura di centro-destra, che oggi rappresentano il Partito Democratico, non soltanto a Gela, ma un po' in tutto il Paese. Quindi a maggior ragione due giovani io le avrei fatte entrare subito, perché noi siamo un partito aperto, non chiuso. La fase congressuale servirà anche a questo, a far capire che oggi non possono essere prese delle scelte personali, ma c'è un partito che discute democraticamente e affronta i temi, così come la città oggi ha bisogno sui temi sociali, anche sui temi interni della vita democratica di un partito. Cerca dunque la condivisione il primo circolo del Partito Democratico di Gela per convergere sulla scelta di un segretario cittadino che guidi il partito politico. È proprio la mancanza di questa figura che ha determinato, secondo la dirigenza del primo circolo, anche la sconfitta alle ultime elezioni amministrative. In 21 anni di amministrazione della città di Gela, da parte del Partito Democratico, prima ancora i democratici di sinistra, il PDS e tutte le fasi congressuali che sono state fatte. Noi abbiamo cambiato il volto di città perché prima molte di quelle che sono le opere pubbliche che oggi sono in città non c'erano, così come non c'era anche il modo operandi all'interno del palazzo di città. Sforzi se non sono stati fatti, la città ne ha tratto benefici. Perdere questo tipo di rapporto con la città per colpa di alcuni consiglieri o per colpa di una guida politica che non c'è stata negli ultimi anni, credo che è stata veramente demenziale da parte di tutti noi e mi ci metto pure io come responsabile di questa situazione, ma c'è un punto dove bisogna dire basta a questo tipo di situazione. Avete aspermente contestato il contegno politico ovviamente all'interno dell'assise civica dei vostri rappresentanti del Partito Democratico e avete sostenuto, sostenete che questo comportamento, questa linea politica è assolutamente scollata dal Partito Democratico. Che cosa contestate nello specifico? Il modus operandi del Consiglio Comunale, nello specifico con riferimento al mancato ingresso dei due consiglieri comunali che volevano entrare nel gruppo consigliare del Partito Democratico, certamente non appartiene alla storia politica del Partito Democratico. Sono comportamenti inimmaginabili che evidentemente, voglio pensare, sono frutto di una mancanza di esperienza probabilmente da parte del capogruppo o di altri consiglieri comunali che in quell'occasione si sono opposti. E comunque anche queste problematiche sono sempre legate alla mancanza di una guida politica e di un segretario cittadino e di una segreteria. Sabato 28 novembre alle 10.30 presso l'hotel Sileno di Gela si svolgerà un evento dal titolo Facciamo Rete, Idee, Progetti ed Esperienze del Territorio. L'incontro è organizzato dall'Unione Provinciale di Caltanissetta del Partito Democratico. I lavori saranno introdotti da Giuseppe Cammarata, responsabile delle attività culturali, eventi, spettacoli e del Forum Turismo e Cultura della Segreteria Provinciale del PD. Durante l'evento di sabato sarà presentato il Forum Cultura e Turismo del Partito Democratico regionale. Per approfondire l'argomento sarà presente Antonio Ferrante, responsabile Cultura e Turismo della Segreteria regionale del PD. All'incontro saranno presenti diversi esponenti del Partito Democratico di Gela e della provincia di Caltanissetta. Il cuore dell'evento saranno gli interventi degli ospiti che racconteranno la loro esperienza nel campo della cultura e del turismo. Riqualificazione del territorio, multiculturalismo, coinvolgimento dei bambini, esperienze di inclusione sociale saranno i temi degli interventi. È prevista per domani pomeriggio alle 14 l'autopsia sui corpi di Giuseppe D'Emanuele Alabi, suo padre e figlio, morti a causa di un incidente aereo, mentre a bordo di uno stormo a 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli, direzione Foggia. L'autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Francesco Lomonaco. Le salme dovrebbero giungere a Gela sabato mattina. In Chiesa Madre sarà allestita la camera ardente. Per la partita di domenica prossima il Vincenzo Presti tra Gela e Profavara si terrà un minuto di silenzio. La squadra bianca-azzurra scenderà in campo con il lutto al braccio. Intanto continuano a giungere in redazione messaggi di cordoglio per quanto accaduto. L'associazione sportiva direttantistica a Mogela ricorda la figura di Giuseppe Labbiso, sottolineando che Peppe non era semplicemente il presidente della Mogela, la società di calcio che fondammo oramai 20 anni fa. Non era semplicemente un amico, era un fratello. Il lusso amore per gli amici, per noi, si legge nella nota, era una fonte di energia incredibile per tutti, una forza della natura che facevamo fatica a contenere. Ci pare impossibile che se ne sia andato di lui, ci manca già tutto. L'entusiasmo, la disponibilità smisurata, l'essere sempre pronto allo scherzo e alla giovialità. La sua allegria contagiosa, la sua incontenibile ed irrefrenabile intraprendenza. Emanuele Labbiso, invece, era per tutti noi come un figlio o un fratello più piccolo, uno dei ragazzi che abbiamo visto crescere, anzi, di quelli che conoscevamo già da prima che nascessero. Con noi, dice la Mogela, ha frequentato tutte le categorie della scuola calcio, è cresciuto qui mostrando da subito la sua educazione, la sua dolcezza, la sua disponibilità nei confronti degli altri. Ma in lui trovavamo anche tante affinità con Peppe, aveva la stessa capacità di sorridere, la stessa autorenia, la stessa grande voglia di giocare, stare con gli amici, vivere. E' una doppia perdita che lascia in tutti noi un grande, enorme senso di vuoto. Facciamo fatica, dice ancora la Mogela, al momento a trovare altre parole. Peppe e Nele rappresentano dei pezzi di cuore che faremo di tutto per custodire e onorare. Abbiamo oggi in mente una serie di iniziative per ricordarli. Questo però è il momento del dolore e della tristezza. Ci manca già Peppe, amico di Mille Avventure. Ci manca già Emanuele, ragazzo splendido, con una vita tutta da vivere strappata troppo presto da un destino che non potrà mai spiegare fino in fondo questa tragedia. Ci stringiamo ai familiari con l'affetto sincero di sempre. Ci uniamo al dolore di tutta la città che ha amato e continuerà ad amarli e li stringiamo con la mente e con il cuore e un abbraccio in cui si racchiudono tanti anni di amicizia vera, sincera, autentica. Ciao ragazzi, sarete sempre con noi. Per la pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela, Giuseppe Labiso è stata una risorsa impagabile. Oggi purtroppo lui non è più con noi ed è difficile immaginare tutto il gruppo senza la sua presenza, senza il suo direttore sanitario che dal dicembre del 2002 ad oggi è stato alla direzione sanitaria di una struttura importante come la Procivis. In questi anni Peppe Labiso ha vissuto e partecipato attivamente all'associazione facendosi carico in prima persona delle sue problematiche, presenziando ogni qual volta vi erano esigenze particolari. Giuseppe Labiso nella sua semplicità e in modo naturale e silenzioso si è dimostrato spesso un esempio di solidarietà sociale, un volontario fra i volontari. Vogliamo ricordarlo in diverse occasioni, nello specifico durante la campagna antincendio del grano, dove per monitorare il territorio mise il proprio aereo a disposizione della collettività. Un gran risultato per la città di Gela, dove gli interventi vennero effettuati in maniera tempestiva e la maggior parte dei raccolti furono salvati. Lo scrive la pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela. Adesso occupiamoci del clima inquietante che si vive a Niscemi, a seguito delle varie intimidazioni subite da rappresentanti dell'Aggiunta Comunale. L'approfondimento in questo servizio. Ho paura per la città, sono preoccupato che si possa tornare indietro negli anni bui della recrudescenza criminale. Il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa, è molto turbato a seguito dei gravissimi fatti delinquenziali che si sono verificati ultimamente in città. Martedì sera, come si ricorderà, mani ignote hanno crivellato di colpi l'auto, una Fiat Stilo dell'assessore alla manutenzione, all'igiene e ai servizi cimiteriali Giuseppe Giugno, 40 anni, parcheggiata sotto casa in via Borsellino. Un proiettile ha raggiunto anche il portone dell'avitazione della vittima. Un inasprimento degli atti criminosi contro l'intera giunta comunale. Dall'avvelenamento in campagna di due cani di proprietà dal sindaco, poi è stata legata con un oggetto metallico appuntito la carrozzeria dell'auto del vice sindaco Rosario Meri. Ed ancora il rinvenimento di una bottiglia incendiaria davanti al portone di casa a Gela dell'assessore Carlo Attardi, lavori pubblici ed urbanistica. Un'aggiunta comunale, quella del sindaco Francesco Larosa, che ha recentemente dato mandato all'ufficio legale del comune di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia che sono in corso per fatti criminosi che si sono verificati nel territorio comunale e che comunque si trova negli ultimi tempi nel mirino delle organizzazioni malavitose. L'indimitazione a colpi di pistola di martedì scorso ha parecchio scorso, amareggiato e sconvolto il sindaco, l'intera giunta ed il consiglio comunale, soprattutto per gli effetti traumatici di natura psicologica causati all'assessore Giuseppe Giugno e ai suoi familiari più cari, la moglie, i figli e l'anziana madre, la quale è stata anche colta da un improvviso malore e condotta al pronto soccorso dell'ospedale Suoro Cecilia Basarocco, dove poco dopo è stata dimessa con la somministrazione di calmanti. Anche il presidente del consiglio comunale, Luigi Licata, esprimendo la massima solidarietà all'assessore Giugno e sentimenti di condanna del grave atto intimidatorio, ha convocato per questa sera alle 20.30 una seduta del consiglio comunale con gli estremi di urgenza, con all'ordine del giorno l'atto criminoso compiuto nei confronti dell'esponente dell'amministrazione comunale. Le intimidazioni contro un amministratore comunale sono una ferita lacerante alla democrazia, lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese, esprimendo solidarietà all'assessore Nisce Mese. Siamo vicini all'assessore Giugno, ha continuato il primo cittadino, e confidiamo che le forze dell'ordine possano individuare i responsabili di questi atti deplorevoli per una società fondata sul diritto. L'escalation di intimidazioni ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che si registra nelle ultime settimane in tutta la Sicilia è un grave elemento da non sottovalutare, rischiando di degradare il livello periferico delle istituzioni ad anello debole del malcontento politico. Il dialogo ed il buonsenso, dice Messinese, siano il motore di una nuova stagione che sappia contrapporre ragionevolezza e buon governo ad un disorientante clima di terrore. Torniamo a Gela per riferirvi del sit-in di protesta di nove operatori che prestano servizio alla Clinica Santa Barbara di Macchitella. Vediamo. Sit-in dinanzi alla Clinica Santa Barbara di Macchitella a Gela da parte di nove operatori ausiliari destinatari di lettere di licenziamento, nonostante un accordo sindacale risolente ad un anno addietro. Tre di loro hanno già ricevuto un provvedimento di mobilità che significa anticamera del licenziamento. Il sit-in è appoggiato da CGL e CISL. L'azienda ci dice che è stato decortato delle somme per quanto riguarda l'assessorato regionale sanitario e quindi da questo è scaturito tutta una serie di provvedimenti e tentative che potrebbero arrivare al licenziamento di nove ausiliari. Noi stiamo tentando fino all'ultimo di arrivare a degli accordi buonari, tra l'altro però veniamo da due incontri all'ufficio del lavoro che sono andati negativi e quindi oggi siamo ritornati qui per ulteriori tentativi e ora ci siamo presi due giorni di riflessione perché tra l'altro ogni singolo lavoratore deve rivedere la propria posizione, gli anni di servizio e quindi come la posizione personale. con questi due giorni di riflessione poi dobbiamo decidere o andare a causa a tutela dei lavoratori quindi a defesa dei lavoratori oppure si possa raggiungere un accordo all'ultimo momento. I licenziamenti sono stati adottati a causa dei tagli che hanno colpito il settore sanità. I lavoratori ritengono di subire una ingiustizia. Anni addietro erano stati assunti a tempo indeterminato. Il verbale diceva che l'azienda si impegnava a non fare nessuna assunzione nell'arco dei due anni. La riqualifica che chiedeva l'azienda era quella in os. Noi abbiamo provveduto all'iscrizione di questo corso e da lì, da maggio 2015, al momento in cui noi abbiamo portato l'iscrizione all'azienda, l'azienda ha provveduto a mandare le lettere di mobilità. Dopo novembre di un anno fa avevamo accettato un demanzionamento pur mantenendo i livelli con la stessa categoria. Loro adducono un soprannumero, cosa che sulla pianta organica non esiste perché la nostra categoria non è stata ancora soppressa. Loro fanno di tutto per eliminare la nostra categoria, cosa che secondo noi non può esistere perché secondo la convenzione noi siamo iscritti sulla pianta organica. La dignità del Reo e il suo inserimento è il titolo del convegno che si svolgerà a Gela domani alle 15.30 presso il Palazzo di Giustizia e sabato 28 novembre alle 9.30 presso l'Aula Magna dell'Iceo Classico Eschilo. Gli incontri sono organizzati dal Lions Club di Gela, preseduto dall'Avvocato Antonio Gagliano in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela e saranno spunti di riflessione sul volume di Giovanni Maria Flick, Elogio della Dignità. Tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate i cui lavori saranno preseduti venerdì dal Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, e sabato da Don Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice vaticana. Venerdì gli ospiti saranno introdotti dal Presidente del Tribunale di Gela, Paolo Fiore, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Ignazio Emmole, dallo stesso Presidente del Lions Club Antonio Gagliano. Interverranno il Docente di Diritto Pubblico dell'Università di Palermo, Lillo Fiorello, l'Avvocato Giacomo Ventura, Presidente della Camera Penale di Gela, il Procuratore Lucia Lotti, il Docente di Diritto Costituzionale Angela Musumeci e l'autore Giovanni Maria Flick. Sabato, dopo i saluti del Sindaco Domenico Messinese e del Coordinatore del Lions Club, Francesco Freni Terranova, relazioneranno il Direttore della Casa Circondariale di Gela, Gabriella Di Franco, l'Avvocato Salvatore Psaila, il Dirigente Scolastico, Gioacchino Pellitteri. 230 veicoli e 250 persone controllate, tra conducenti e passeggeri, 76 contravvenzioni elevate per violazione al codice della strada, un motorino e un'autovettura, sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Questo il bilancio dell'incessante attività di controllo del territorio in questi mesi da parte della Guardia di Finanza di Caltanissetta nell'ambito del piano Trinacria, nonché dei servizi di controllo straordinari contro il terrorismo disposti dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che da mercoledì scorso vedono impegnate le fiamme gialle assieme alle altre forze di polizia. Analoghi servizi erano già stati predisposti nei mesi scorsi e avevano portato al deferimento all'autorità giudiziaria di una donna eritrea trovata senza documenti e permesso di soggiorno. Sequestrati inoltre due apparecchi di intrattenimento non conformi alla normativa sui giochi, 250 cd e dvd pirata e sanzionati quattro ambulanti per omessa installazione del misuratore fiscale, nonché tre esercizi commerciali che durante le serate della Movida Nissena hanno somministrato alcolici a minori di 18 anni. Controlli che saranno intensificati durante le festività natalizie al fine di contrastare la contraffazione, la pirateria audiovisiva e la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza europea, quali luminarie natalizie, giochi per bambini, articoli pirotecnici, nonché il contrasto alla ventita di tabacchi privi del sigillo di monopolio e qualsiasi altra forma di contrabbando. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo subito con la nostra consueta rubrica in breve. Stilato è il programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Si comincia sabato 28 novembre alle 16.30 con lo scampanio festoso e lo sparo di 12 colpi a cannone annunziato alla città. Alle 18 l'eucarestia preseduta da Don Raimondo Giammusso nel venticinquesimo anno di sacerdozio e alle 20.30 veglia di avvento e solenne lucernaio animata dal movimento giovanile San Francesco. Continua al teatro comunale Eschilo la stagione teatrale. Sabato 28 novembre alle 17.15 e alle 21.15 Federico Buffa porterà in scena le Olimpiadi del 1936. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Prenderà il VL 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Arriva il grande jazz a Gela, appuntamento al teatro comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21.00. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino. Dalle 17.00 alle 20.00 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933-911-892 oppure 345-5880-580. Corri con papà Natale, sesta edizione. Si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9.30 in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Veletti. Informazioni e iscrizioni al numero 347-5799-271. Adesso occupiamoci della maratonina che si svolgerà domenica prossima a Gela. Sentiamo. E' prevista per domenica prossima a Gela la seconda maratonina del golfo valida come prova conclusiva delle Grand Prix Sicilia di maratonine senior, master maschile e femminile e non a prova delle Grand Prix provinciale Fidala di Caltanissetta. Prevista la presenza di 700 atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione sportiva è promossa dall'associazione Atletica Gela con il patrocinio del comune. Più di 700 atleti tra cui molti vengono pure fuori dalla Sicilia. E' un evento doppiamente importante perché riconferma il buon lavoro svolto dall'associazione che ha organizzato questo evento l'anno scorso e quest'anno addirittura chiude la stagione. L'ottava maratonina, l'ottava tappa per le maratonine in Sicilia. Quindi è l'onore e il piacere a Gela di poter chiudere questa stagione agonistica. Domenica avremo un evento importantissimo per la nostra città a livello regionale, a livello nazionale e spero anche a livello internazionale. E alla seconda edizione speriamo che ce ne siano tante altre. Noi come comune ci siamo impegnati a promuoverlo e io personalmente come assessore allo sport anche perché è nel nostro programma. Lo sport è uno degli elementi essenziali al servizio del cittadino. Lo sport inteso come non solo evento sportivo fino a se stesso ma come percorso educativo e formativo per tutta la nostra città. Il lungomareggio laese e il parco urbano di Machitella faranno da suggestivo scenario naturale alla gara. Siamo già pronti per la terza edizione prossimo anno, infatti abbiamo fatto già richieste e il prossimo anno dovrebbe essere il 6 novembre. Per quanto riguarda la gara di quest'anno, alla partenza come associazione prevediamo almeno 700 atleti provenienti da tutta la Sicilia, quindi più forti atleti regionali e un buon 10% dalle restanti regioni italiane, quindi dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, eccetera. Come atleti di rango sicuramente un nome su tutti avremo la nostra dipartenza Francesco Ingargiola che è stato campione del mondo militare di maratona e tuttora oggi detiene nel stesso tempo il time di maratona in Italia con 2.08 quindi un atleta di livello non solo italiano ma mondiale. Per quanto riguarda gli atleti che lotteranno per la vittoria, in campo maschile sicuramente Mohamed Idris che è un ragazzo del Marocco che vive a Menfi ed oggi penso che sia, se non le più forti, le più forti atleti regionali del panorama di Podicimo. A livello femminile è la nostra amica di Mazzarino Giussichiolo che lotterà con gli altri atleti di rango. Per quanto riguarda gli atleti nostri locali voglio dire che saremo presenti come atleti che a Gela con 40 tesserati. Siamo all'informazione cinematografica N. Giulietta Neromeo, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella sono 3 gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30 Con il cinema è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui vi ricordiamo che notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato arrivederci